Le meraviglie culturali, architettoniche, paesaggistiche e archeologiche della Calabria non smettono mai di stupire. E tra queste meraviglie di rara bellezza si può annoverare a pieno titolo il complesso ecclesiastico dell'Arciconfraternita del Carmine, incastonato nel paesaggio mozzafiato di Bagnara Calabra. La chiesa, realizzata nel 1700 in stile barocco, ha resistito al terremoto del 1908 ed offre ancora oggi agli occhi dei visitatori opere di inestimabile valore. Si sa che gli stucchi siano stati costruiti dall'artista Gianforma che era un artista di Messina e successivamente viene abbellita con altre opere in legno tra cui il coro così definito che sormonta la navata principale dopo abbiamo anche Gloria e un Gloria in gesso e abbiamo all'interno del Gloria proprio l'icona, un'icona di chiaro stampa bizantina, viene anche definita in cora nera, restaurata nel 1983 che è resalente all'anno 1000. Il complesso ecclesiastico si estende anche sul livello sotterrario, in quella che è una vera e propria cripta di interesse archeologico, riservata nel passato al culto dei fedeli. La cripta è stata utilizzata, quando hanno fatto la chiesa, come zona cimiteriale, però c'è un nitore, una bellezza architettonica, percezionale, molto bella ed è ben conservata, si potrebbe fare un lavoro di recupero e ci potrebbe riservare molte sorprese come datazione. Le meraviglie della chiesa barocca di Bagnara non finiscono qui e si estendono anche all'interno del museo realizzato dall'Arci Confraternita. Il museo Angelo Versace è molto interessante per la sua peculiarità perché presenta reperti di natura archeologica, di natura ecclesiastica, di natura archivistica.